In Digital360 sono Junior Consultant all'interno della Practice Healthcare Innovation di P4i e in pratica no, non curo le persone, ma aiuto chi lo fa a farlo meglio. Tra le principali attività che svolgo ci sono interviste e workshop con tutti i principali attori in ambito sanitario per la definizione di strategie aziendali di trasformazione digitale e per il co-design di servizi di connected care incentrati sul paziente e sul cittadino. Tra i principali tool che utilizzo, oltre a Office, c'è Miro che ci aiuta a disegnare workshop interattivi con tutti i partecipanti. Del mio lavoro una delle cose che mi piace di più è il fatto che le attività che svolgo tutti i giorni sono legate a tematiche di forte interesse a livello nazionale e quindi mi sento parte di una vera e imminente trasformazione in sanità. In particolare Digital360 mi dà la possibilità di lavorare in un ambiente giovane, dinamico e flestibile in cui c'è un continuo confronto libero con tutti i miei colleghi, sia più senior che più junior. Se penso al mio lavoro in Digital360 mi viene in mente il rapporto di fiducia necessario per raggiungere gli obiettivi nel binomio cavallo-cavaliere. So di cosa parlo perché ho fatto 15 anni di equitazione.